Matic Network sta esplodendo, tutti pazzi per Matic, in questo video andiamo a vedere la nuova DeFi che sta nascendo su Matic e anche qualche news sui launchpad. Intanzitutto grazie per aver superato i 300 iscritti, adesso ho potuto finalmente creare l'account di backup su Odaisy, mi hanno caricato solo una decina di video ma da questo momento in poi dovrei avere il mio account sincronizzato anche su questa piattaforma nel caso mi dovessero sospendere l'account su YouTube, sappiamo che YouTube è privato, possono decidere loro quando sospenderti l'account per un qualunque motivo, perciò è sempre meglio avere questo account di backup, sicuramente pubblicherò ogni tanto qualche video esclusivo solo su Odaisy, vi lascerò poi il link in descrizione, ma partiamo con Matic e la DeFi su Matic. Innanzitutto due prime premesse, per spostare i fondi su Matic dobbiamo usare il Bridge, il Bridge, anche qui vi lascio poi il link in descrizione, dove per esempio qua spostiamo da Ethereum, per esempio Ether che abbiamo su Metamask, a Matic Network, usiamo appunto questo Bridge, ci saranno delle fee da pagare la prima volta, per esempio usare le fee della blockchain di Ethereum, che tra l'altro ultimamente si sono abbassate, la prima volta, poi dopo su Matic attualmente è praticamente gratuito, sono le fee, per cui non spostate ogni volta 20-30 dollari, ma fate un invio unico iniziale, un po' di una cifra più consistente, per poi non pagare più le fee, e poi una volta su Matic si usa, questo è l'Uniswap o il PancakeSwap di Matic, per esempio appunto, da qua possiamo svuopare Matic per, o di Ethereum, o i wrap di Ethereum che abbiamo, cioè di Ethereum wrappati per Matic o gli altri token di questa blockchain. Bene, per un tutorial fatto bene nei dettagli su Matic, piuttosto che farne adesso io uno nuovo, non volevo fare invece un video più sulla DeFi su Matic, vi rimando a un video che ha fatto il Tiziano Tridico, che ha fatto un ottimo tutorial, vi lascio anche il link su questo punto, su come funziona il Quickswap e fare e trasferire i fondi sulla blockchain di Matic, è molto semplice, vi rimando a questo video spiega veramente con calma tutti i passaggi, se mai, se qualcosa non vi è chiaro, vi invito a raggiungere la nostra community Telegram, anche qui link in descrizione, per tutte le domande, se c'è qualcosa che non vi è chiaro. Passiamo alla DeFi su Matic, ci sono c'è una piattaforma attualmente attiva che è Polywhale e ce ne sono tre in rampa di lancio, iniziamo con Polywhale, allora sono tutte copie di Pancake Swap, a sua volta Pancake Swap erano copie di Uniswap, poi dopo è un altro Sushi Swap, sono tutti dei fork, quindi con tutte, da un lato comodo, perché un'oltre che sappiamo usarne uno gli altri funzionano allo stesso modo, però anche con i problemi del caso, perché poi più fork ci sono, più sono facili anche questi Ragpull, o comunque la gente che va poi in questi fork, in queste copie, va con l'obiettivo di guadagnare, perché ci sono delle APY, queste rendite APY alte, ma appena queste scendono la gente non è che rimane legata a queste piattaforme, quindi uscirà, damperà il prezzo del token della relativa piattaforma, in questo caso il Krill, che era già, adesso qua ecco, se andiamo a vedere il grafico di Krill nelle ultime sette giorni, qua, quando appena andate alla piattaforma, tutti a prendere Krill, perché c'erano APY alti, il total value lock è aumentato, è arrivato fino a quasi 250 dollari, ora lo stanno dampando tutti, per cui a entrare adesso in Krill, conviene, io sinceramente non lo consiglierei adesso, perché siamo in fase di dump, poi si potrà riprendere o no in futuro, chi può dirlo, però sarebbe stato più strategicamente interessante entrare in fase iniziale, si sa quando nuove piattaforme nascono, c'è il rischio, ragpull, invece ci sono ancora l'audit, ma se non c'è uno scam dietro, il grafico inizialmente è questo, salgono, salgono, poi la gente dumpa, è un po' un pump and dump, però se proprio devo entrare è meglio entrare all'inizio, diciamo che la cosa positiva qua è che c'è già più sicurezza che non sia uno scam, perché è già da qualche giorno, di sicuro non consiglierei di comprare il token Krill, la cosa buona appunto è che c'è già da qualche giorno, si sta stabilizzando come piattaforma, eventualmente si possono mettere in stake i matic vreppati, o anche i vreptc, vrepteater, quick che è il token di quickswap che ha anche avuto una bella salita, e qui c'è una fee dal 4%, ma poi si ricevono i krill come reward, ho messo qui dei quick, quindi non si è esposti in permanent loss, il prezzo di questi token è abbastanza stabile, potrebbe scendere, molto probabilmente scenderà la reward, ma alla peggio si ricevono delle reward minori, non si viene esposti a volatilità della piattaforma. Ok, quindi Polyway è il buono perché c'è già da più tempo e più sicuro, e tra l'altro ho avuto anche l'audit, questa è l'unica attualmente di piattaforma che ha già l'audit, ora me le faccio vedere tre invece che non sono ancora state lanciate, quindi siamo in questa fase 0, quindi come se fossimo qua, per cui possiamo prenderci tutta la bull run della piattaforma, però ci si esponiamo anche a un rischio, visto che non c'è l'audit del rag bull. Di cosa sto parlando? Allora, la prima è Polyguy, che le farm inizieranno, oggi è sabato, primo maggio, per chi guarda questo video, se lo state guardando al 4-5 maggio siamo tardi. La piattaforma andrà live lunedì 3 maggio alle 10.45 UTC, che corrispondono alle nostre, diciamo europee, mezzogiorno e 45. A questo punto il token GAI attualmente vale 46 dollari, potrebbe avere una bella salita per poi avere un dump, sempre che non c'è l'audit qui, lo dico già, poi mi sono informato su Telegram, dicono che, ah ma tranquilli perché tanto siamo un non-fork di Goose Finance, ok, classica frase poi di uno che fa un hack, cioè uno scam è così che ti dice, però, per cui, allora, mio consiglio, io non do consigli finanziari, non ascoltate mai consigli finanziari su YouTube da degli sconosciuti, premessa, quindi non prendeteli mai nei miei consigli finanziari, vi dico cosa faccio io, poi voi potete prenderlo come spunto, io non investo qua cifre importanti, perché il rischio di uno scam è alto, però è anche alto la possibilità che questo token prenda molto valore, perciò sicuro non vado a comprare questo token che poi potrebbe venire dampato, vado a mettere in staking per esempio dei Wrapped Matic, che ho cambiato per Ethereum, c'è questa fee e, come si dice, se la piattaforma non scamma, posso ricevere dei buoni profitti, specie in fase iniziale, e non sono esposto alla volatilità del sistema, perché Matic sono abbastanza convinto che è un token che prenderà ancora valore nel tempo, non perderà valore, mentre Gaia avrà un pump and dump e se non esco subito rischio di venire dampato, senza investire tanto, una piccola cifra, poi ognuno sa qual è la propria piccola cifra, per alcuni una piccola cifra sono 10 euro, chi 100 euro, chi 1000 euro, quindi lo dovete sapere voi, però una cifra che siete disposti a perdere senza problemi, perché qua il rischio di scam è alto, però anche l'opportunità è anche interessante, perché le farm non sono ancora iniziate, questo è anche il loro account twitter, sono pochissimi follower, ancora in fase veramente beta iniziale, questo è Polyguy, poi c'è Polycat, anche qui le farm inizieranno, c'è il countdown, lo potete vedere qui, in questo momento manca un poco più di un giorno, quindi andranno live domenica in serata, domenica in serata per domenica 2 maggio, verso le 8 di sera circa, questo attualmente è il prezzo del loro token della piattaforma, che adesso non so esattamente come lo chiamano il loro token, il FISH, chiamano FISH, ecco questo è appunto la loro home page, Polycat Finance, e vi lascio anche qui il Polycat.finance, è il sito però, ve lo lascio in descrizione, e poi c'è un'altra che parte tra circa 20 ore, Polyfox Finance, di nuovo, solito sistema, questo è il prezzo del token attualmente, chiaramente non è ancora live, verrà dampato all'istante, e anche qui hanno le loro pool, dove mettere per esempio in stake Matic, c'è una fee, la POR qua, adesso non guardatelo perché non c'è ancora dentro nessuno, appena entra gente si abbasserà all'istante, e appunto potrebbe essere interessante da entrare inizialmente, senza, in permanente loss si mettono qui un quantitativo di token, e si ricevono le reward in questo, nel loro token FOX. Bene, questo era per la DeFi su Matic, poi seguiranno altri aggiornamenti su altre blockchain, voglio semplicemente segnalare al volo invece riguardo i launchpad, che appena ha ricevuto notizia pochi minuti fa, che Trustpad, che è un nuovo launchpad, cos'è un launchpad? È un sito, un aggregatore di progetti per le pre-sale, per le pre-vendite, dove se si acquistano i loro token, si riceve la possibilità di partecipare a dei prezzi molto più convenienti rispetto a quelli che verranno lanciati a mercato, e di pochi minuti fa la notizia è che Trustpad ha la sua white list ufficiale in cui si può partecipare, si compila qua il proprio username Telegram, il proprio wallet R20, bisogna inserirlo, e poi dopo bisogna seguire qui gli step, perché bisognerà seguirli loro su Telegram, il loro canale, su Twitter, e poi si partecipa appunto alla white list, alcuni verranno selezionati e potranno, avranno la possibilità di entrare nella loro pre-vendita, non è per tutti, poi ci saranno le vendite ufficiale al pubblico, ma dopo lì è già un altro discorso. Questo è per Trustpad, mentre è ancora aperta la white list per Crosspad, che è un altro aggregatore in fase di lancio, Crosspad è interessante perché, mentre Trustpad è un, come Trustpad è crosschain, cioè attivo su varie blockchain, la cosa positiva di Crosspad è che si ottengono allocazioni garantite, indipendentemente da quanti token si acquistano. Queste sono appunto le varie blockchain che sono supportate, e chiaramente più token si acquistano e più le allocazioni saranno alte. La white list è ancora aperta, vi lascio anche questo link in descrizione, attenzione, attendiamo news da Solstarter, la piattaforma di launchpad in rampa di lancio su Solana. Attenzione agli scam, abbiamo fatto del video, scam alert sui gruppi Telegram fasuli di Solstarter. Un ultimo aggiornamento su Oxbull, che attualmente è appunto l'aggregatore nel quale sono dentro, ho fatto anche il video, semplicemente per dirvi che i progetti ultimamente lanciati stanno andando bene, hanno avuto tutti da un 2x-10x, è stato così adesso di recente per Cryptoblaze, Revo Network, è andato molto bene anche Altura, per chi ha partecipato. Attualmente le allocazioni per il tier 1 sono attorno ai 250-300 dollari di allocazioni e tra pochi minuti ci sarà anche la possibilità di partecipare per chi ha gli OxB in staking in block time. Adesso qui devo collegare il wallet perché così giustamente io adesso sono sulla rete sbagliata, vediamo se riesco a collegarlo al momento con Binance Smart Chain, così posso vedere se c'è già live la locazione di OxBull e appunto la cosa interessante di OxBull è che il prezzo si è stabilizzato, ecco per block time ora sono uscite le allocazioni e sono più basse, si hanno la massima per il tier 1 perché almeno 8.000 OxB è di 90 dollari BUSD e apre tra poco, tra tre ore, poi per qualche ora rimane aperta finché viene filata, mentre il tier 2 basta avere 1.000 OxB in staking e il tier 3, non so mi ricordo ma ancora meno, il prezzo di OxB si è stabilizzato, dopo questo è il grafico, negli ultimi 30 giorni è sceso perché dava delle reward molto alte al metterlo in staking e quindi queste reward in OxB poi venivano dampate e infatti ecco questo è il grafico negli ultimi 30 giorni vedete com'è sceso ma ora si sta stabilizzando perché ha cambiato il sistema di reward, ora non darà più queste reward alte, si ricevono un 2% di reflect token semplicemente tenendolo in staking come i token deflazionari tipo SafeMoon, SafeMars per intenderci ma non saranno più così alte da far sì che poi chi le ricevesse le andasse poi ad amparare al mercato, quindi ora si dovrebbe stabilizzare, le pre-sale stanno andando bene, si sta un po' abbassando, l'unica cosa è l'allocazione individuale per appunto questi tier come li chiamano, soprattutto appunto per chi è in tier 1 i primi davano fino a 4-5 BNB, adesso si erano passati attorno ai 300 dollari, ora siamo a massimo circa 100 dollari, chiaramente si può fare un 3x, 4x, 5x però diventa poi meno interessante quando l'allocazione poi diminuisce, vedremo se questa cosa avrà un po' un impatto sugli investitori, è chiaro che meno allocazioni dà e meno attrattivo poi diventa entrare in questi launchpad, però lo voglio segnalare a livello di prezzo si dovrebbe stabilizzare, comunque si possono fare dei guadagni, per esempio entrare in un tier 2 con 1000 OXB si può già partecipare e comunque con circa un migliaio di dollari il prezzo dovrebbe più o meno stabilizzarsi e comunque guadagnare da queste prevendite. Bene, questo era tutto per il video di oggi e lasciate un like e un commento e condividete se vi è piaciuto.